Cosa significa essere donna? Non è una domanda così banale, mesomi. Me lo sto chiedendo molto spesso ultimamente. Mi sto chiedendo quale essenza noi donne, essere contrastanti, fragili eppure fortissimi, racchiudiamo in noi. Se la possiamo anche definire un'unica essenza o se davvero siamo infinite cose in un unico corpo. Mentre leggo un libro che parla di donne e di storia, di donne nella storia degli uomini potrei dire, mi viene in mente un film del 2002 che mi ha fatto commuovere. Ebbene sì, mesi amici, anche la vostra contessa sa piangere. Il film è The Hours ed è un adottamento del romanzo vincitore del premio Pulitzer per la narrativa Le Ore di Michael Cunningham, la regia di Stephen D'Aldry. Cominciò dal finale, ma non spoilerò, perché la frase, la riconoscerete di certo, fa parte di una lunga lettera di Virginia Woolf al marito. Caro Leonard, guardare la vita in faccia, sempre. Guardare la vita, sempre. Riconoscerla per quello che è. Alla fine conoscerla, amarla per quello che è e poi metterla da parte. Leonard, per sempre gli anni che abbiamo trascorso, per sempre gli anni, per sempre l'amore, per sempre le ore. Virginia Woolf non è l'unica donna della storia. È solo il pretesto, è il leitmotiv, è l'ordito, è la trama dei fili che reggono i sentimenti di questi personaggi. Le altre due, Laura e Clarissa, vivono un'epoca diversa, ma entrambe catturate dalle pagine di un libro, La signora Dalloway, di Virginia Woolf. E così la loro vita si intresce a quella della scrittrice, che scrive, rapita, tormentata dalle vicende del suo personaggio, che vuole far vivere, e poi morire, e poi essere infelice, anche un po' inutile. Le altre due vivono tutte queste emozioni come segni del destino, come conferme. E solo le donne possono capire cosa sia la magia di una conferma del destino, che diventa una sorta di punto di non ritorno, qualcosa di essenziale, per cui vale la pena vivere e respirare. Il film è eccezionale per l'empatia che trasmette, è tecnicamente inescepibile, per la straordinaria interpretazione di Nicole Kidman, Julia Moore e Meryl Streep, per la fotografia e per il montaggio. I luoghi, i dialoghi, le azioni sincrone delle tre donne catapultano lo spettatore in un mondo a parte. Mondi che si intersecano, che indugiano, che riconosciamo ma con una patina di sogno. Los Angeles è gli anni cinquanta, New York è il terzo millennio, le regioni inglesi è gli anni venti e quaranta. Guardatelo e non abbiate rimure nell'esprimere le emozioni che suscita. Bien, me chuchu. Questa volta non finirò con la recensione al film. Voglio parlarvi del libro che ho tra le mani. Pagine in chiostro nero, come tanti. E come tanti parla di vita, di odore, di persone, di oggetti, di mondi diversi. Perché noi lettori amiamo un'aufragare nelle pagine che parlano di mondi nuovi, calarci nei personaggi e vivere quelle vite per un po'. Facciamolo. Anche con tu non spegnere le luci. Viviamo queste donne, queste macchioline della vita, che in fondo non hanno soluzione. E se ci fosse sarebbe quell'alba a cui le varie Elisa fanno sempre riferimento, ricordando, però, di contro, il fascino irresistibile del tramonto. Buona lettura, me chuchu.